Ma che se non si rende conto che sta arrivando a dire di via? Mi prende un fulmine o... Bello, ripreso! E se tocca a terra è tromba d'aria, guarda come si sta mucchiando la colonna di bassa pressione. In aria sta facendo i fulmini, vedi? Già sta piovendo là, quando torniamo ti funzionano le spazzole? E' la mia attra, poi guarda un'atello, guarda un'atello, guarda un'atello, guarda un'atello. non è giusto, non è giusto non è giusto, non è giusto Sì, non cazzo, non ho fatto un buco. La tua vada, mua, mua. Cioè, sono le 9 meno qua, là il giorno, capito? Guarda per come cazzo è diventato nero, no? Cioè, è buio pezzo, lo. Ma no, che ci prende. Cioè, vedo la passata. Cioè, vedo il video. Cioè, vedo il video. Cioè, vedo il video. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.